Musica 11 giornate che finisce in doppia cifra sul re, verto intatto lo stoppatone c'è una veloce di Simons questa è una stoppata da buon appetito a far ritornare il pallone nelle mani del suo numero 23, poi di nuovo da Marquez Green in post basso per Kitz Langford che prova a battere in velocità e lo fa bene con il reverse Jeff Vigiano arriva alla stoppata la rimessa Jenning, vediamo se prova a giocarsela dal post basso, prende la stoppatona da parte di Simons sono altri 20 secondi per la Montepaschi andiamo a rivedere cancellato Razic Berezzi ancora Razic la finta lavora sul piede perno Razic mismatch buona palla sotto Berezzi la stoppata da parte di Robinson anche di Simons scusate la rimessa per Brindisi grazie a tutti